Il successo del matrimonio, è vero? Sì, ci siamo divertiti un sacco e questa è la cosa più bella di questo matrimonio. Per colpa di una bandiera? Per merito di una bandiera, no? Sì, perché noi avevamo deciso di fare questo matrimonio stile anni 50, quindi andando a sposare in 5 centri. E io poi ho aggiunto questa cosa, visto che c'erano in corso i festeggiamenti per il Napoli, di uscire poi con la bandiera e festeggiare... Due avvocati a TV7? Sì, ieri sera, poi siamo usciti anche sulla 7, durante la part di puntata di Propaganda Live, dove ci hanno fatto gli auguri per il nostro matrimonio. Però devo dire, io devo precisare una cosa, che io sono il braccio, però il vero tifoso è lui, lui il vero tifoso, io sono la faccia tosta, diciamo, si vede. Ma si vede che... Cioè... Quindi... il futuro? Il futuro, il futuro noi speriamo che questa nostra allegria possa accompagnare tutti i nostri giorni a venire e possa sempre coinvolgere e contagiare anche i nostri amici, come è successo. Ma la sistemazione definitiva a Nola o a Cimitino? Per ora rimaniamo a Cimitino, però in futuro sì, è previsto che veniamo a Nola, ci trasferiremo a Piazza Clemenziano. Ah, quindi... In futuro. In futuro sì. In via Principe di Napoli, precisiamo. Precisiamo in via Principe di Napoli. Via Principe di Napoli. Quindi un... C'è un futuro Nolano. Un futuro Nolano. I nostri progetti sì. E quindi salviamo anche la celebrazione del matrimonio a Nola, no? Vabbè, la celebrazione del matrimonio è stata fatta a Nola in omaggio allo sposo, che è Nolano Doc. Doveva essere fatta a San Piaggio, ma purtroppo non l'ha riaperto ancora dopo i lavori. E quindi, insomma, siamo stati benissimo anche a Gesù con Don Salvatore Bianco, che è il parolo che ci ha seguito anche nella preparazione spirituale a questo matrimonio. E quindi è stato un bel matrimonio. E il matrimonio come è andato? C'è la funzione? In chiesa? In chiesa prima e poi anche alla sala. Allora, in chiesa è stato molto emozionante perché c'erano tutti gli amici, le famiglie, c'erano tutte le persone che ci vogliono bene. E anche il ristorante è stato molto divertente, si è ballato tantissimo, ci siamo divertiti tanto e c'è stata tanta musica. che poi è una passione che ci accompagna tutti i giorni. Quindi è un appassionato di musica, lo sposo. Lo sposo è un appassionato di musica, lo sposo è un appassionato di musica.